salve a tutti benvenuti nel mio canale oggi parliamo di una molecola da nome un po complesso il pregnenolone ma importantissima per quella che è la catena della sintesi di tutti gli ormoni steroidei dal colesterolo ormai dovremo sapere che inizia la catena di sintesi degli ormoni steroidei il colesterolo in effetti alla prima molecola è la nonna di tutti gli ormoni steroidei il colesterolo viene internalizzato all'interno del mitocondrio e con la mediazione di una proteina chiamata star che permette appunto al colesterolo di entrare nel mitocondrio il quale poi attraverso azioni enzimatiche viene idrossilato a pregnenolone da pregnenolone attraverso catene enzimatiche derivano poi molti ormoni steroidei che possono andare verso la strada della steroidogenesi quindi testosterone estrogeni chiaramente progesterone idea o verso la strada degli ormoni glucocorticoidi come ad esempio il cortisolo famosissimo ormone riconosciuto come un ormone da stress perché dico questo che mi allaccerò poi a un concetto che dirò alla fine del video di quanto il cortisolo può impedire o contrastare la formazione degli ormoni steroidei testosterone ed estrogeni il pregnenolone perché è importante ma uno l'abbiamo capito questa azione è fondamentale di precursore degli altri ormoni se abbiamo scarso pregnenolone anche la sintesi degli ormoni a valle ne risentirà quindi avremo probabilmente una scarsa quantità degli altri ormoni nello stesso tempo si è visto che il pregnenolone abbandonato negli studi negli anni precedenti dando importanza appunto agli ormoni che tutti conosciamo invece un'attività diretta a livello anche del tessuto cerebrale quindi un neuro ormone possiamo chiamarlo è prodotto dal ghiandolo sulionale in abbondanza ma anche dalle ovarie e dal cervello ed è presente anche nei testicoli cosa succede che a livello cerebrale tende amplificare a rendere a pericolare i recettori nm da e per il gap per cui chiaramente riesce a creare un consolidamento dei processi di memorizzazione e modulare quello che può essere anche le emozioni e l'umore quindi vediamo come anche un'azione diretta di questo ormone del pregnenolone a livello di quella che è un po la anche la neuroplasticità la neurogenesi o comunque la modulazione di alcune diciamo così informazioni che avvengono a livello cerebrale innanzitutto anche il consolidamento della memoria ci fa capire come la sua scarsa presenza specialmente nell'età più evoluta si ad esempio manifesta più delle volte con una scarsa capacità di attenzione e di memoria quindi non sempre solo il testo salone gli estrogeni sono protagonisti di questi avvenimenti quindi ricordiamolo come il nonno di tutti gli ormoni e come molecola neuroattiva capace essa stessa di modulare alcune funzioni del nostro cervello il concetto che avevo spesso all'inizio è legato a una situazione che viene identificata come il fusto del pregnenolone siccome abbiamo visto che il pregnenolone può prendere due strade la sintesi di estrogeni testosterone o la sintesi di cortisolo ecco che lo stress ripetuto e quindi cronico perché il nostro corpo è programmato per lo stress avuto attacco fuga non per lo stress cronico continuo a cui siamo ormai sottoposti nelle ore che diurne e notturne fa sì che vi sia un eccesso di produzione di cortisolo il quale oltre a alterare tantissimi equilibri di cui si è parlato personalmente altri colleghi in vari video va anche a decurtare a sottrarre il pregnenolone per la sua sintesi quindi deriviamo che se la quantità di pregnenolone è prestabilita e una buona parte una quota parte va prende la sintesi del cortisolo avremo meno biodisponibilità per la sintesi degli altri ormoni per cui molto importante in questi casi dosare la presenza della molecola esistono anche i testi salivari e nello stesso tempo se serve che chiaro combattere lo stress ma nella impossibilità di fare questo un'integrazione esiste come molecola anche come un mondo il bioidentico prescrivibile chiaramente dagli specialisti che sono abilitati a questo e potremo in questo modo equilibrare la carenza o il fusto di pregnenolone bene con questo vi saluto ci vediamo come sempre a un prossimo video e auguro a tutti un buon fine settimana Grazie a tutti